buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 27 agosto si ricorda santa monica il nome monica è di origine fenicia o nordafricana e dal significato ignoto dal medioevo in poi è stato di frequente ricondotto al latino moneo consigliere oppure al greco monos uno solo dice il proverbio tempo bello brutto in campagna nasce tutto sono nati oggi lyndon johnson tom ford francesco venditti il 27 agosto 1859 a titusville in pennsylvania viene aperto il primo pozzo petrolifero della storia da questo momento il nuovo combustibile comincerà a sostituire il carbone in tutto il mondo il 27 agosto del 1955 esce la prima edizione del guinness dei primati che entrerà subito ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti e punto di riferimento per il record di tutto il mondo infine il 27 agosto 2003 marte passa nel punto più vicino alla terra degli ultimi 60 mila anni cioè a circa 56 milioni di chilometri dal nostro pianeta charles bukowski ha detto di rado va come ci aspettiamo che vada per la precisione mai arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia grazie a tutti